Corrado Carelli Elevatori e Stemma Sport hanno un solo punto in classifica dopo il pareggio maturato nella prima partita, quella inaugurale del proprio girone alla 28esima edizione dell'Inge Callen, dunque una vittoria servirà a una delle due squadre sicuramente per ipotecare il passaggio del turno e quarti di finale. L'avvio di questo match è sicuramente favorevole alla squadra in maglia rossa, guardate Viscido che conclusione che ha partorito direttamente su calcio piazzato, ancora Viscido che è molto attivo in questa prima parte di gara, lo sarà in verità in tutta la partita risultando di gran lunga il migliore in campo di questa gara, poi Autiero che al terzo tentativo segna il gol del 1-0 trafiggendo Baratta, ma le belle statuine davvero in fase difensiva alla squadra dello Stemma Sport che ha lasciato solo il giocatore in maglia rossa libero di colpire facilmente e realizzare dunque il gol del 1-0. Poi ancora un calcio piazzato, difesa in maglia arancione che si addormenta e arriva Viscido che la trafiggela, castiga in maniera inesorabile 2-0 per la squadra in maglia rossa dopo 7 minuti, avvio disastroso per la Stemma Sport che dopo questo inizio davvero devastante riesce finalmente a scuotersi e lo fa con questa conclusione da parte di Lecce. Un tiro che è uno scaldabagno, beffa Tonini che certamente non pensava potesse arrivare da quella distanza, un tiro di così rara potenza e precisione dunque 2-1. Questo momento della partita è sicuramente favorevole alla squadra in maglia arancione, soprattutto è Lecce che è bravissimo a liberarsi sulla sinistra, poi calcia di destro, palla che termina di poco sul fondo. È però un momento molto molto positivo questo per la squadra in maglia arancione, guardate Bove che si possessa del pallone e poi scaglia questo proiettile sotto l'incrocio dei pali. Tonini incredulo per questa conclusione che si è infilata proprio sotto l'incrocio dei pali e dunque pareggio, due pari dopo l'inizio sfortunato. Adesso c'è soltanto una squadra in campo ed è quella arancione che conclude con Zazà, scosso il palo con Tonini battuto. Graziato in questo caso Tonini, il primo tempo dunque finisce con la squadra in maglia arancione in attacco. Nella ripresa però ci sarà tutt'altra musica, finalmente si scuote dopo una parte finale di primo tempo davvero disastrosa la squadra in maglia rossa e infatti dominerà proprio questa seconda frazione. Guardate questa traversa che era stata colpita all'inizio della partita, poi c'è questo momento con questo tiro splendido realizzato da Pelle che segna dunque il gol del 3-2 proprio sugli sviluppi di un'azione avviata sulla fascia destra. Poi guardate questo calcio di punizione. La difesa in maglia arancione si dispone con tre uomini in barriera e lascia, guardate il numero 10, completamente libero di poter tirare. Infatti è proprio lui a ricevere, si tratta di Masini che segna un gol davvero facile, facile, elementare. Una squadra che è stata davvero battuta da una situazione in maniera molto ingenua. A questo punto 4-2 e c'è ancora però Baratta, costretto a fare gli straordinari ancora su questa conclusione partorita dal numero 4 in maglia rossa. C'è dunque la squadra in maglia arancione che cerca in qualche modo di scuotersi dopo questo inizio di ripresa assolutamente inquietante. C'è Zazà che ci prova a battere Tonini che però è molto bravo a respingere e a neutralizzare il suo tiro. Il Corrado Carelli-Revatori però sembra molto più vivo, molto più tonico, molto più attivo nonostante fossero soltanto sei giocatori in campo. Ma ha un vicido in più che guardate è riuscito a realizzare il gol del 5-2 con questa azione. neanche troppo travolgente ma si è addormentata ancora una volta la squadra della Stema Sport assolutamente rivedibile in fase difensiva. Baratta molte volte è stato lasciato solo proprio per essere battuto in porta. Ancora questa azione avvolgente quasi scherzata la squadra in maglia arancione che subisce il gol del 6-2. Il gol dunque definitivo da parte di uno strepitoso viscito autore di una tripletta migliore in campo di questa partita. Dunque vittoria importante da parte del Corrado Carelli-Revatori che supera per 6 reti a 2 l'OMIA Sport e si porta dunque a 4 punti in classifica ipotecando il passaggio del turno ai quarti di finale di questo 28esimo in Gekallen.